cinque comportamenti per farti rispettare sempre da chiunque primo comportamento essere gentili ma fermi assertivi cioè decisi in quello che si vuole dire secondo comportamento essere affidabili dare affidabilità perché se vuoi essere rispettato devi comunque essere una persona affidabile terza terzo comportamento è apparire come credibile essere credibile è un altro comportamento che ti fa rispettare le persone credibili essere credibile vuol dire che quello che dici fai non che fai delle cose e non le dice o dici delle cose e non le fai il quarto comportamento essere tra virgolette onesto nei tuoi confronti nei confronti dell'altra persona e il quinto comportamento saper entrare in comunicazione empatica con l'altra persona cioè saper percepire le emozioni che vive l'altra persona ma seguimi su youtube ovviamente sempre sul canale massimo tramasco e anche crescita personale con massimo tramasco